Buon salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi sono qui in una modalità molto accogliente, tranquilla. Come vedete ho messo anche le lucine di Natale, essendo oggi primo dicembre, giorno in cui registro di solito il wrap up mensile. E per questa ragione voglio proprio fare una chiacchierata riguardo i libri, tutti i libri, letti nel mese di novembre. Perché il mese di novembre è stato, per quanto mi riguarda, molto proficuo in ambito di letture e soprattutto letto tra i libri più belli e interessanti di quest'anno. Ovviamente vi ricordo che tutti i libri di cui parlo oggi, che vi citerò, quindi saranno linkati ad Amazon nell'info box. Se dovesse essere appunto di vostro interesse acquistarli potete farlo tramite i miei link di affiliazione. Tra l'altro trovate anche il link alla mia pagina Ko-fi, giù nell'info box se volete offrirmi un caffè virtuale. E tutti i modi in cui potete sostenermi, ovviamente in modo assolutamente gratuito. Poi mi sono anche resa conto che tutti i libri di cui vi parlerò oggi, in realtà, io ve li ho già mostrati in altri video. E ve ne ho parlato spessissimo su Instagram. Quindi questo mese non sarà in realtà molto ricco di sorprese, a dire la verità. Però trovo che ogni lettura abbia avuto il suo senso e siano state tutte singolari a proprio modo. Quindi direi di iniziare parlando di una coppietta di libri edita Lindau Edizioni, che sono Nella Tana e Prede di Gabriel Filtoshiba. Sono sicura che abbiate già visto, specialmente questo libro, nell'ultimo periodo girare su internet, perché questa qui, Prede, è proprio un'ultimissima uscita di Lindau Edizioni. Questi due libri mi sono stati gentilmente inviati dopo aver assistito alla presentazione proprio di Prede da parte dell'autrice nel Lindau Book Club, che si fa, diciamo, su Zoom. Ed è un momento molto molto bello, anche molto caloroso, in cui si dà voce agli autori e alle autrici al fine di darci modo di comprendere la totalità dell'opera. E secondo me la presentazione di Prede, di Gabriel Filtoshiba, è stata, per quanto mi riguarda, una delle presentazioni più belle, e tra l'altro sono stata fortunata, perché presumibilmente se l'avessero fatta dal vivo, perché chiaramente su Zoom e online, io non avrei potuto partecipare. Quindi sono felicissima di aver letto questi due testi e vi darò giusto qualche impressione su queste due opere, semplicemente perché ieri, che è stato appunto il lunedì 30 novembre, io e Marika, la postmoderna, ne abbiamo parlato in una diretta Instagram di circa un'ora, quindi abbiamo cercato di analizzare sotto quasi tutti i punti di vista, speriamo di essere state esaustive in questo, entrambe le opere. Quindi se vi va di scoprire qualcosa in più, sia dell'autrice, che è molto singolare, ma approfondire proprio tutte e due le opere, vi rimando a quella diretta su Instagram, vi lascio il link dell'account di Marika giù nell'info box. Vi dico che mi sono piaciuti entrambi tantissimo, sono tra i libri che ricordo con più affetto, che ancora mi tornano in mente, già ieri dopo aver fatto la diretta ho avuto di nuovo un ritorno di fiamma, un amore per questa autrice canadese. Infatti Gabriel Filtoshiba vive in Quebec e ha ambientato entrambe le sue opere proprio in questo specifico posto e nella Tana è in realtà un diario da parte dell'alter ego dell'autrice che si chiama Anouk. Lei stufa della vita, si trasferisce nella foresta, compra una capanna, una specie di catapecchia e vive fondamentalmente grazie solo alla sua forza, alla sua voglia di andare avanti, assolutamente a contatto con la natura e il mondo animale. La cosa interessante è che in questo testo lei ci parla di femminismo rurale e anche protezione dell'ambiente, quindi sostenibilità verso il nostro modo di fare, verso le nostre abitudini, ma anche e soprattutto unione con il mondo animale e il mondo vegetale, quindi vi è questa comunione, questa congiunzione astrale di questa donna che fondamentalmente diventa un'eremita ma che poi si scopre attivista. Quindi alla fine Anouk non è nella foresta solo per contemplare l'esistenza, farsi domande sulla vita come fanno magari alcuni asceti, ma è una persona umana in carne e ossa che cerca di dare il proprio contributo al fine di distruggere lo status quo e soprattutto umana perché è alla ricerca di affetto, nonostante si sia tolta, spostata dalla città, dalla vita delle metropoli ecco. Alla fine lei crede in un'umanità migliore e nelle scelte del singolo che possono fare tanto. Per quanto riguarda Prede in realtà era nato come saggio sul bracconaggio, di fatti nella Tana è un testo che è un po' ibrido perché è un diario, è comunque un romanzo, una fiction narrativa che ci racconta però la vera esperienza dell'autrice e in questo caso invece Gabriel Filtoshiba sperimenta una via narrativa veramente definibile tale, quindi un romanzo a tutti gli effetti. Quindi essendo il primo nella Tana una bomba perché è un libro super concentrato in cui troviamo tutta l'ideologia dell'autrice, in questo caso essendo nato come saggio contro il bracconaggio troviamo tutti i suoi pensieri spalmati su una narrazione molto più lunga. La protagonista ovvero Raffaele fa parte del corpo forestale, cerca i bracconieri che cacciano di frodo, quindi non nei periodi stabiliti dell'anno. In questo caso Shiba si ispira proprio a Thuro e a disobbedienza civile e tra l'altro io vi consiglio di leggere questi due romanzi a poca distanza l'uno dall'altro, ve li consiglio entrambi perché sono due libri che si accompagnano. Io personalmente ho avuto la fortuna di leggerli insieme uno dietro l'altro e quindi ho potuto apprezzare tutto il mondo che gira intorno all'autrice ma specialmente la storia, quindi l'intreccio che ha gestito in modo secondo me brillante perché Nellatana essendo diario finisce nelle mani di Raffaele, quindi abbiamo l'incontro poi alla fine tra Anouk di Nellatana e Raffaele che secondo me è un incontro bellissimo, delicato ma anche tanto animalesco. Se siete affezionati a questo tipo di tematiche quindi anche animalismo, comunque sostenibilità ma anche connessione con un mondo della natura senza però scadere nel naif, se siete resti a questo tipo di temi io ve li consiglio ugualmente perché sono stati interessantissimi e ricchi di spunti di riflessione. Vi lascio anche il post e la foto che io ho scattato proprio per questi due testi per il mio account Instagram, quindi se vi va la trovate giù nell'infobox. Il prossimo libro è questo qui ovvero Horrida di Louisa May Elcott. Questo testo ve l'ho consigliato in uno degli ultimi video caricati sul canale in cui parliamo di cinque opere minori di autori molto famosi. Se ve lo siete perso ve lo lascio linkato sia giù che su nelle schede informative. Questa è una raccolta di racconti da parte dell'autrice di piccole donne. Alcuni di questi racconti, ce ne sono cinque in questa raccolta che edita Black Dog Edizioni, alcuni di questi erano stati scritti in origine sotto pseudonimo perché ovviamente la Alcott aveva in un certo modo un suo universo realizzato appunto poi con piccole donne. Quindi spesso si è trovata a dover scrivere di mondi sommersi, mondi sotterranei, macabri e foschi utilizzando un altro nome. Un po' per pregiudizi, un po' perché all'epoca era difficile accettare una donna che scrivesse storie di fantasmi e storie di paura e quindi ha dovuto trovare proprio una via d'uscita. Tutti i racconti risalgono più o meno all'epoca comunque di piccole donne, al massimo uno o due anni prima. Quindi troviamo dei temi che sembrano quasi di scostarsi da quella narrazione lì. Ci tengo a precisare che io non ho mai affrontato Luisa May Elcott in altre narrazioni se non in questa perché piccole donne non mi ha mai affascinata. Anche se diversi diversi di voi nei commenti, nei messaggi cercano sempre di darmi spunti, idee per poter arrivare anche a quel tipo di narrazione che pare essere un tipo di narrazione molto pedagogica. Anche infatti nell'ottocento era questa più o meno la direzione quindi si cercava di dare dei modelli, delle figure anche alle ragazze e ai ragazzi diversi rispetto agli anni precedenti. Quindi a quanto ho capito piccole donne non dà modo agli stereotipi di crescere, anzi ci regala delle figure di donne diverse l'una dall'altra che crescono anche con le proprie caratteristiche e hanno modo di far sentire la propria voce secondo le proprie velleità. Quindi questo è un tipo di idea che mi stuzzica leggermente di più rispetto al pregiudizio che avevo io riguardo proprio piccole donne. In questo caso abbiamo tante figure femminili che sono protagoniste di questi racconti, figure che sono molto, per certi versi negative, ma scendiamo così tanto nel profondo del loro essere da comprendere quali sono le ragioni, le motivazioni delle loro scelte, più truci, delle loro comunque nefandezze. Non sono solo donne le sue protagoniste, ma anche ragazzi, ragazzi giovani, comunque uomini e riesce a scavare proprio nel profondo pescando dagli angoli più oscuri dell'anima di tutti quanti perché è così, non siamo buoni e cattivi da una parte all'altra, ma c'è un universo che è molto complesso rispetto a quella che poi è l'idea di bene e male che abbiamo anche nella nostra società contemporanea. Quindi l'Alcott riesce proprio a darci modo di vedere oltre una linea sottile perché in questo caso non abbiamo racconti di paura, non vi immaginate storie di fantasmi che andavano tanto di moda in quegli anni. In questo caso ci troviamo davanti a racconti di tipo quasi giallo, ok? Quindi thriller, storie misteriose, storie sospese che non hanno poi una conclusione, che tengono il lettore sul filo del rasoio. Infatti io sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa raccolta. Ci sono un paio di refuzzi nel testo, ve lo sottolineo semplicemente perché me lo sono ricordato, però di solito dimentico questa cosa. Ci sono un paio di refuzzi in generale, però l'edizione è curatissima, con un apparato critico degno di nota, veramente. Sono molto felice di averla letta. Sicuramente resterà una delle raccolte di racconti preferite di quest'anno, ma in generale della vita. Bellissima scoperta l'Alcott in veste macabra. Adesso vi leggo un piccolo passo che è tratto dal racconto dietro la maschera. Sono stanca di essere un imperturbabile, gelido automa e impossibile per un carattere passionale come il mio e non intendo sforzarmi più. Non posso impedire alle persone di amarmi. Io non desidero il loro amore, chiedo solo di essere lasciate in pace e non capisco perché si ostinino a tormentarmi. Non sono bella né ricca né nobile, eppure ogni sciocco giovanastro scambia il mio sincero interesse per qualcosa di più e così facendo mi rende infelice. È la mia croce, pensate di me ciò che volete, ma badate bene, senza volerlo potrei farvi del male. E qui ovviamente andiamo proprio a scavare in fondo a quelle che sono delle dinamiche vissute intorno all'ottocento ma che si protraggono anche oggi, cioè interesse che viene scambiato per qualcosa di più o come dice all'inizio essere imperturbabile, una donna no? Vittoriana nel vero senso della parola, quindi super discreta, non franca. Perché? Perché altrimenti sarebbe stata vista in modo sbagliato, sarebbe stata giudicata molto male. Quindi abbiamo anche in un certo senso abbattimento di alcuni stereotipi. È chiaro che ci troviamo comunque un tipo di narrazione risalente all'ottocento e che è diversa rispetto a quelle nostre. Troverete delle battute che non si confanno poi a delle dinamiche più progressiste, però è chiaro che già qualcosa del genere all'epoca era tanto. Quindi anche questa ottima ottima lettura. Il prossimo libro che vi mostro non vi dico niente perché ho dedicato un'intera video recensione soltanto a lui e parlo del vampiro storia vera di Franco Mistrali, ovvero il primo romanzo che parla di vampiri scritto in Italia, di Revenant in generale. Nonostante ci siano comunque delle esperienze pregresse, non si parlava proprio di vampiro. Non veniva pronunciata quella parola nella narrazione, ma pian piano arriveremo anche alle cose più antiche. Comunque è un testo del 1869 pubblicato da Edizioni Arcoiris per la biblioteca di Lovecraft. Quindi se vi va di sapere di più se siete ovviamente appassionati anche di letteratura gotica o di letteratura vampirica, vi raccomando di andare a recuperare la mia recensione che vi lascio su nelle schede giù nell'info box. Una cosa che ci tengo a dire è che non trovate il vampiro che beve sangue. Nonostante la presenza del sangue sia abbondante e questo tema venga molto indagato, ecco è un testo che è molto molto diverso rispetto a quelli che siamo abituati a leggere anche degli anni successivi a questo tipo, Carmilla, Dracula e altri. L'ultimo testo di narrativa è L'innamorato della montagna di Igino Ugo Tarchetti. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un testo pubblicato da Lindau Edizioni. Io, sapete, ho iniziato da poco a collaborare con Lindau, però diversi testi li avevo già presi, ce li avevo io in ebook o cartacei perché è una casa editrice che ho conosciuto tanti anni fa, su cui ho studiato delle cose mie personali per i miei interessi e soprattutto ha pubblicato tantissimo di Tarchetti. Tantissimo, sono forse cinque testi proprio su Tarchetti nella collana dei classici e L'innamorato della montagna è stato veramente un testo che io ho amato dalle prime righe. Voi sapete che Tarchetti è uno dei miei autori preferiti, quindi mi sarebbe sembrato strano insomma non amare anche questa, questa brevissima narrazione perché poi si parla di circa 60 pagine più o meno. Di questo volumetto vi ho parlato anche in questo caso nel video sui libri sconosciuti di autori famosi che vi invito comunque a vedere perché ovviamente vi racconto altre cose rispetto ad ora e ho analizzato altri punti anche in base alle opere che vi ho citato in quel video, quindi anche in questo caso link ovunque. È un testo che è stato pubblicato da Tarchetti come una specie di resoconto di viaggio, quindi un reportage di viaggio che ci accompagna però nel profondo sud, quindi diciamo dalla basilicata, un viaggio tra eboli e potenza e ci permette di comprendere appieno tutte, credetemi, tutte le sfumature della poetica di Tarchetti, quindi sia il linguaggio utilizzato, il mondo linguistico ottocentesco italiano, specialmente quello di Tarchetti che per quanto mi riguarda, nonostante sia simile a altri testi ottocenteschi che ho letto, è assolutamente unico e irripetibile, si riconosce quello che scrive lui perché era un'anima così unica, profonda, sapeva scendere all'interno dei buchi neri del suo io e sapeva poi anche portarli fuori scrivendoli e questa per me è la cosa eccezionale. Quello che ho trovato in questo testo è stato sicuramente una conferma della sua bravura ma anche una conferma di quelle che erano i temi caldi, come vi ho già detto, dell'autore. Infatti una delle evidenze più grandi che vediamo è la presenza proprio del sublime. Edmund Burke in quegli anni parlava, se si pronuncia così ogni volta c'è un problema con queste pronunce, parlava del sublime e il sublime era la bellezza vista nella tragedia, nella drammaticità ma anche nelle brutture e nell'estetica che non si confaceva a quella della perfezione. Quindi il sublime era l'amore, la passione, il vedere il bello nelle cose brutte, oscure, truci dell'esistenza. Un esempio su tutti è questo qui che vi leggo. Sono quelli i luoghi più selvaggi e più tristi di quelle province. Il bello dell'orrido vi è diffuso a profusione. La basilicata lascia presentire la Calabria senza avere però né tutta l'orribilità maestosa di questa né tutta la bellezza calma e svariata delle altre province. qui ecco ci dà un'idea del sud della Calabria, cosa che chiaramente a me interessa. E già tra l'altro nella raccolta dei racconti fantastici, questa qui, di cui vi lascio tra l'altro il link giù nell'info box perché l'ho già recensita, nell'ultimo racconto, ovvero uno spirito in un lampone ambienta la sua narrazione proprio in Calabria. Dandoci modo anche di sapere qual era un po' il suo pensiero nei riguardi del sud. Questi posti tra cui la Calabria sono orridi ma in modo bello ci permette di vedere come appunto il bello dell'orrido è diffuso a profusione ed è forse anche quello che abbiamo raccontato nel video sulla vera storia di Halloween che vi lascio su nelle schede giù nell'info box in cui parliamo delle sue origini calabresi e di quello che si faceva in Calabria perché in generale il sud Italia è un posto molto permeato dall'idea di morte, dall'idea di orrore, dal rapporto stretto proprio con la presenza del macabro e del maligno. Quindi secondo me anche questa è una testimonianza molto interessante soprattutto per quegli anni di ciò che che è una parte dell'Italia. In più sto leggendo diversi saggi sul sangue tra cui il sugo della vita, questo qui che è stato pubblicato dal saggiatore, ma anche De Sanguine di Luigi Maria Lombardi Satriani perché voglio portare dei contenuti a tema sangue sicuramente un po' spooky e macabri qui sul canale, ma per questo ci vedremo più avanti perché ovviamente ho bisogno di tante altre fonti e devo leggerle e studiarle a fondo per cercare di capire come restituirvi un contenuto chiaro e comunque ricco di spunti di riflessione a mio avviso. Quindi queste qui erano le mie letture del mese di novembre, spero ovviamente che vi abbiano incuriositi, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli, se leggerete qualche testo che vi ho consigliato, ovviamente vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale di lasciare un mi piace e spero di non aver dimenticato null'altro. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!